De Bruno Toscana con Elena Gigi, una campionessa olimpica del 2004 ad Atene con la palla a nuoto, adesso giochi sempre? Sì, io gioco ancora e ho preso l'impegno con la Prato Water Polo che è in collaborazione con Ant, l'associazione per la cura dei tumori a domicilio. È una società molto semplice però mi sento molto stimolata, voglio continuare a giocare e vedremo come andare il campionato. E per quanto riguarda la nazionale? Ho rinunciato quest'anno per un infortunio al ginocchio e all'anca che è una cosa di rusintra noi sportivi, però adesso sto meglio per cui ho intenzione di provare a giocarmi la mia quarta Olimpiade. Per quanto riguarda il Tirzatterosa cosa ti senti di dire? Che oggi purtroppo è andata male? No, guarda, gli sono troppo vicino, le sto sentendo tutti i giorni, mi dispiace perché avrebbero potuto veramente arrivare lontano, però si sa, è sempre un po' un terno all'otto i rigori, quando si arriva ai rigori, per cui sono vicino a loro e voglio solo che non si abbattano e continuino a lottare per la medaglia. Grazie mille, in bocca al lupo per il proseguo della carriera. Grazie, grazie. Grazie.